Il dottor Vincenzo Roca è il questore di Venezia. Una grande appuntamento, questa iniziativa Una Vita da Social, soprattutto rivolta ai più giovani, purtroppo in questi momenti dove i giovani lasciano la vita. Sono migliorati i sistemi di comunicazione oggi. I ragazzi hanno questa grande capacità di comunicare tra loro anche dopo il contatto fisico successivo ai momenti di incontro nella scuola. Sicuramente è un aspetto positivo e un aspetto di modernità, però bisogna comprendere che anche questi nuovi strumenti di comunicazione possono essere pericolosi. Ed è proprio questo, dottor Roca, nel suo intervento che ha fatto oggi con gli studenti. L'attenzione e la vicinanza delle istituzioni con i più giovani. Le istituzioni devono essere vicine al territorio. Non siamo più qualche cosa che avulso dal tessuto sociale. Il territorio è composto anche da giovani. Quindi essere presenti, ma non solo. Io adesso come questore, tra un po' arriverà il prefetto e gli altri responsabili delle forze dell'ordine. È anche un modo per far comprendere ai giovani che tutti noi vogliamo operare in rete con sinergia per facilitare la loro crescita armonica e tenerli a riparo da pericoli che comunque oggi sono presenti sia nella rete ma anche nella società. Ed anche il dottor Vincenzo Roca, questore da città di Venezia? È una vita da social. Grazie dottore. Grazie a tutti.